Virtfenix è da anni al fianco dei propri clienti e a sostegno del loro business con NetEye. NetEye è un ecosistema in grado di controllare e governare le complesse dinamiche delle infrastrutture e dei servizi IT attraverso i suoi moduli funzionali. Il modulo Monitoring vigila costantemente sull'intero ambiente IT, individuando proattivamente le componenti che possono causare disservizi e il corrispettivo servizio business impattato. Il modulo offre una reportistica puntuale sulla qualità dei servizi erogati, sullo stato di salute dell'intero ecosistema IT e dell'utilizzo delle sue risorse. Il modulo Log Management e CM permette la raccolta automatizzata di eventi e log di ambienti IT come network, infrastrutture e applicazioni. Velocizza la ricerca di anomalie grazie al Machine Learning. Sfrutta metodi di correlazione e rilevazione di errori e compromissioni della Cyber Security. Attraverso la telemetria IT, il modulo IT Operation Analytics consente di effettuare l'analisi prestazionale di rete, applicativi e infrastrutture. Diagnostica proattiva e Anomaly Detection permettono di identificare i componenti in sofferenza. Tramite il tracciamento delle transazioni utente, il modulo APM permette di quantificare la user experience con metriche mirate, diagnosticare applicazioni e infrastrutture e guidare verso un'adeguata risoluzione. Il modulo Service Management permette una maggiore velocità di elaborazione di disservizi e richieste cliente attraverso processi di IT Governance, ovvero Workflow, procedure di escalation, Knowledge Management e Asset Management integrato. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.wurt-phoenix.com o scrivi a info-wurt-phoenix.com